Ciao, allora video velocissimo è un haul di quello che ho acquistato durante la mia incursione a Venezia di cui ho girato un video e vi lascio il link qua sopra, come racconto nel video sono stata a trovare la mia collega personal shopper a Venezia, Anna, che mi ha portato un po' in giro e siamo andate ad aggiornarci sulle novità e ho fatto un po' di acquisti, in particolare sono stata brava ho acquistato soltanto in un negozio che mi ero prefissa che è Margherita, che c'è sia a Padova che a Venezia che mi ero prefissa, io sono andata perché volevo andare a vedere questo negozio di cui Anna perla sempre benissimo e l'ho praticamente svaliggiato e poi sono stata a vedere Trame di Moda, Fashioning Cinema, questa mostra inaugurata il 2 settembre a Palazzo Mocenigo quindi nel cuore proprio di Venezia è dedicata agli abiti indossati dalle celebrities sul red carpet della mostra del cinema nella storia e una breve raccolta di abiti di scena devo dirvi la verità, il catalogo, vabbè partiamo da questo quindi, che ho acquistato alla mostra a un prezzo abbastanza elevato perché costava, vedete, 28 euro è un libro illustrato, chiaramente un catalogo di moda, fotografico con parecchio testo anche, ma moltissime foto questo è il costume di scena del film Mambo e di Silvana Mangano e vi devo dire la verità, alcuni abiti molto molto belli pochi, io per 7 euro di biglietto ho trovato pochi abiti mi aspettavo di rimanere dentro molto più a lungo mentre in una ventina di minuti ho visto tutto c'erano in particolare questi abiti, quindi quelli del red carpet dagli anni 90 ad oggi, in maggioranza mentre i costumi di scena erano anche più storici vi lascio comunque qui anzi, nell'info box il rimando al post sul blog L'Angolo delle Curiose dove c'è proprio la mia impressione un po' di reportage sulla giornata a Venezia e anche su Trame di Moda, quindi sulla mostra e quindi questo è stato l'acquisto collaterale perché quando vado alle mostre mi piace portarmi a casa i cataloghi perché rimangono, poi sono delle cose tra l'altro sembra anche abbastanza interessante all'interno dove dovrebbero indagare la relazione tra la moda e il cinema e tra quello che appare sullo schermo quello che viene comunicato e la società che poi riceve il film comunque vi farò sapere a breve quando lo avrò lo avrò sfogliato un po' meglio vi faccio vedere invece le margherite alle margherite che è questo negozio di bijoux molto bello e devo ammetterlo molto particolare ci sono, diciamo così due cose che hanno attirato la mia attenzione la prima, a parte guardate che cura ogni cosa nel suo sacchettino la prima sono le acque di colonia cioè loro vendono questa linea di acque di colonia io ho preso quella alla lavanda che ha una profumazione veramente molto forte ma allo stesso tempo che rispecchia moltissimo la lavanda questa boccetta che è abbastanza grande non c'è scritto quanto è però è abbastanza grande che loro tengono in esclusiva penso nel senso che hanno marchiato qua sotto con Margherita Padova Venezia io l'ho pagata a 18 euro e è molto buona mi piace veramente molto e adesso vi farò poi sapere se rimane anche addosso però mi piace molto e poi hanno i bijoux hanno moltissimi cerchietti moltissimi accessori spille e quant'altro per i capelli e poi ci sono i bijoux i bijoux che secondo me si possono dividere in due grandi filoni quello un po' più come dire serioso se vogliamo con delle bellissime tramature metalliche delle pietre molto belle colorate dei veri e propri monili molto belli molto raffinati secondo me e poi quelli che ho comprato io ossia quelli un po' più non saprei neanche come chiamarli spiritosi un po' meno eleganti e un po' più che mi esprimono un po' più personalità ecco mettiamo così dal mio punto di vista però sicuramente meno eleganti e meno raffinati e in genere quel tipo di bijoux ha un prezzo abbastanza elevato si possono in qualche modo paragonare e prendetemi con le pinze ai gioielli in bachelite degli anni 70 con quelle forme particolari molto colorati di questi materiali plastici non hanno nulla a che vedere con la preziosità dei gioielli in bachelite che infatti hanno dei prezzi molto diversi da quelli di cui sto parlando io ma diciamo così che si inseriscono nel filone di continuità di quel tipo di bigiotteria mi spiego questi orecchini qui addosso li... vabbè ve li faccio vedere proprio li vedete indossati sono l'uovo e la palettina tolgo questa così ve la faccio vedere sono vedete delle piestrine di materiale plastico di resina plastica applicate con la palettina di là c'è l'uovo e poi hanno la chiusura e essendo rimangono un po' pendenti non rimangono proprio all'uovo e questi qua costavano allora diciamo così i bijoux mi sembra tra i 18 e i 25 sì all'incirca sì considerate che è allo scontrino ma non è dettagliato quindi ho speso 86 euro di cui 18 sono di colonia e i rimanenti sono da dividere in tre questo paio di orecchini non so perché mi ricordo sui 20 euro a pezzo comunque più o meno perché questi erano 18 2,4,6,80 sia all'incirca poi ho preso questi qua invece a pendente con il gattino e il cappello che sono invece in tipo legno molto leggeri anche questi e anche questi vedete sono abbastanza giocosi ognuno nel suo sacchettino e poi l'ultima cosa che ho comprato perché l'ho trovata adorabile è questa spilla sempre in resina plastica con cappuccetto rosso che ha le braccina di brillantini i due brillantini che sembrano degli hug boots questi stivali con i bottoni di lato e poi sul retro proprio la spillina da balia e la faccio vedere sul blu carinissima mi piaceva moltissimo e quindi sono quel genere di bijoux che magari si fa un pochino più fatica a trovare e quando li trovo a prezzi accessibili come in questo caso cerco di non farmeli mai scappare quindi questo come vi avevo detto mi sono stata molto brava perché ho preso poco vi rimando quindi al video del tour al video in giro per Venezia se siete curiosi di vedere cosa abbiamo visto e di conoscere Anna e ci vediamo presto a 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 Grazie.